Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPI-Li, coda per incidente in direzione Livorno tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta e San Casciano. Sulla Siena-Bettolle, fino al 26 settembre per lavori, chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Sulla Statale 1 Aurelia, per lavori scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano, chiusi gli svincoli di Braccagni e Monte Pescali in direzione Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!